Vi vorrei invitare qui Michele Tascolese, per favore, con un applauso. Eccolo! Penso che Michele non abbia bisogno di presentazioni, ma lascio la parola ad Andrea. Io vi preparo, perché adesso avrò il piacere e il privilegio di suonare due dei brani che andranno nel disco dal vivo con Michele. Allora, un applauso ancora. Immeritatamente tocca a me parlare di questo brano bellissimo, The Moon Tonight, ispirato alla voce dell'uno di Fellini, della nebbiosa bassa bolognese, mi dice Stefano, il poetico e malinconico Ivo Salvini, il personaggio di Roberto Benigni nel film, Girovaga nelle campagne, seguendo delle voci provenienti dai pozzi alla ricerca della donna ideale che assomiglia al suo unico e vero amore, è la luna. Il chitarrismo di Michele Tascolese ha reso questo brano magico. Una parola soltanto, abbiamo Michele Tascolese sul palco qui con noi, tutti sapete chi è. Non devo ricordarvi io il grande lavoro che ha fatto in questi anni per la musica cantautorale italiana e le collaborazioni infinite, soprattutto quella con Fabrizio De Andrè. E adesso con Stefano Indivino. Va bene, mi sento di troppo. Innanzitutto grazie, grazie Andrea Nebbiai, ancora un applauso a lui. E suoneremo a seguire, dopo The Moon Tonight, l'altro brano. Come dal vivo? A fra poco. A fra poco. A fra poco. A fra poco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.